Con te lo sarai e se il formone è vero, è la posta che è la sua ogni famiglia, quest'anno dove ci fanno, e la città la sua, e dove vengono? Si poi non si te casas con un marco, è solo una gran elezione, perché aprendi a me, con un minuto si te pido condonar. Io te quedo con un minuto ancora, del mes del cielo non sei molto bravo, con un minuto che sono, quando hai deciso a mirare a questo lato, e con mucho orgullo le dico a mi gente, lo che tengo lo he ganato. Lo che ho ha fatto anche di a me, con un minuto che bella la corsa. E ci strani, lo che è bella la corsa, è bella la corsa. Uh. Si all'adega la corriente del cuadro, e lo, che, 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 che. ha servito mi via per me segnali e l'amore saluto con torno a Miquel si me venia a fare una visione forte e stavamo spettando con un milagro e se ne parà e se senti un altistano e comprimati con todos sus consejos da me chiede che non metto a Miquel con torno a Miquel le farei a cerrar e mi avance e le pregunte le chiede come al 4 me ha llamado echa de primo e arriba a la siena mi avance echa de primo e corriente al 4 padre originalmente de Miquel y Corteño manda humildemente la musica le venimos a compartir en esta noche agradecemos la invitacion pues a todos aquellos que hicieron posible que Lara a a a